Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Si tratta di una notizia che ha circolato nei giorni scorsi e che val bene una piccola riflessione filosofica. La notizia riguarda il fatto che dopo McDonald's anche il marchio atlantista Nike abbandona la Russia. Ebbene sì, la Russia tende a essere letteralmente abbandonata dai grandi marchi della globalizzazione merciforme. Sicché, possiamo dirlo senza tema dismentita, avanza il processo di deglobalizzazione felice della Russia, che sempre più appare libera dal gioco mortifero di Washington e del capitale borderless. In effetti, quel che sta accadendo con la guerra in Ucraina può essere letto anche secondo questa chiave ermeneutica. Non solo, come è evidente, nel senso di un conflitto tra un'area del mondo, peraltro piuttosto estesa, che, guidata dalla Russia e dalla Cina, si rifiuta di piegarsi all'imperialismo statunitense, o, se preferite, a quella che viene pudicamente appellata globalizzazione. E che altro non è, in fondo, se non la anglobalizzazione, vale a dire l'occupazione americana dell'intero pianeta, quale si è venuta delineando soprattutto dopo il 1989. Accanto a ciò, e connesso con ciò, vi è anche, in maniera sempre più palese, uno scontro, uno scontro tra il colonialismo culturale della globalizzazione e della forma merce, che trova nel paradigma americano il proprio ubicon system, e un vero e proprio processo di decolonizzazione culturale, che al momento è proprio guidato dalla Russia. È come se, in effetti, si dessero intrecciati due conflitti. Da un lato quello geopolitico-economico, il conflitto tra il blocco occidental-capitalistico, trainato dalla civiltà del dollaro e dalle sue colonie, in primis l'Unione Europea Savassandir, e dall'altra parte il blocco orientale, dei paesi detti un tempo non allineati, guidato a sua volta dalla Cina e dalla Russia. Un conflitto geopolitico, dunque, che pone in essere le basi per una ricostituzione del mondo pre-1989, quel mondo che, come ben ricordate, era diviso in due blocchi. Sembrava, dopo il 1989, che il mondo fosse destinato a essere riassorbito dalla potenza del dollaro, secondo quella dinamica di globalizzazione che altro non diceva, se non la sussunzione dell'intero pianeta sotto le insegne washingtoniane, ed ecco che ora si inceppa il processo, da che vi è l'emergenza di nuove potenze, come la Russia e come la Cina, che non si piegano a questo processo e che anzi oppongono resistenza, ricostituendo un multipolarismo in fieri. E poi abbiamo lo scontro culturale, da un lato la civiltà del nulla, quella americanocentrica, fondata non peraltro sulla forma merce, che è l'emblema del nichilismo, parafrasando Nietzsche e Marx, la morte di Dio si compie nel mercato, o meglio, nella mercificazione integrale del mondo della vita. una cultura del nulla che si esprime ad esempio nella cosiddetta cancel culture, che non va tradotto con cultura della cancellazione, ma meglio con cancellazione di ogni cultura, abbattimento delle vestigia della nostra stessa civiltà, espressione di quel nichilismo, l'ospite più inquietante di cui diceva Nietzsche, che ovunque già sta proiettando il proprio cono d'ombra, e che sta risucchiando nella propria voragine l'intero occidente. Contrapposto a ciò vi è il modus di resistere che la Russia sta proponendo, valorizzando la propria cultura nazionale, la propria cultura letteraria, la propria cultura religiosa ortodossa, quasi come se stesse opponendo resistenza al nulla che avanza, al nulla rappresentato dalla cultura washingtoniana, la civiltà dell'hamburger e della cancel culture. Anche questo è in atto in questo processo e non va assolutamente trascurato.